Buongiorno, ben trovati ad una nuova diretta di Mattina Live in questo venerdì. Iniziamo soffermandoci su un focus sulla politica e non solo perché con lei sono tanti gli argomenti sui quali disquisiremo. Quindi immediatamente la introduco e do il buongiorno a Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega e tra l'altro da poco eletta dal suo partito a capo della Commissione Anticamorra della Regione Campania. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora innanzitutto sarei d'accordo, io commenterei l'increscioso evento che l'ha vista protagonista settimana scorsa, un atto riprovevole per cui va tutta la nostra solidarietà e anche la mia personale. Un atto, come dicevo, riprovevole che non si deve mai più ripetere e che però al contempo le permette comunque di andare avanti, insomma di non fermarsi e di avere coraggio comunque di rinunciare e di dire quanto è accaduto. Come stai innanzitutto? Grazie, grazie per la solidarietà che in questi giorni è stata fondamentale. Mi è servito tanto vedere quanta solidarietà ho ricevuto e mi ha dato la forza di continuare ad andare avanti nonostante questo gesto vile e intimidatorio. E' chiaro che chi fa politica sui territori e la fa nel solco della legalità poi deve mettere in conto che dà fastidio a certi sistemi. La politica è una passione, io la continuerò a perseguire e continuerò a fare quello che è il mio dovere e cioè quello di rappresentare la parte sana che mi ha votato e che mi ha sostenuto. Questo naturalmente le fa onore, le fa lode e immagino anche quanto sia ancora più difficoltoso in questi giorni riuscire a portare avanti i propri ideali, le proprie battaglie. Lei è anche mamma quindi si è spaventata maggiormente perché poi ci si sente anche responsabili per l'amore dei nostri cari. Quindi davvero complimenti e grazie anche di essere qui con noi quest'oggi e parlandone perché bisogna parlare e non voltarsi dall'altra parte. Tra l'altro le battaglie che lei porta avanti da anni, la sua lotta all'abusivismo edilizio lei porta avanti da anni e tra l'altro da poco è stata, come dicevo prima, nominata dal suo partito a capo della Commissione Antica Morra. Un vulnus questo della nostra regione Campania che non si ferma, dilaga continuamente, secondo lei perché? Io sono stata, voglio precisare, sono stata indicata dal mio partito come Presidente della Commissione Antica Morra della regione Campania. Non è ancora avvenuta l'elezione ma sarà convocata a breve la Commissione e si procederà. Sicuramente i nostri territori sono afflitti da questa problematica e come lei diceva prima non è semplice contrastare un sistema. È più semplice far finta di non vederlo oppure starne lontani. Però poi è sempre una questione di come si interpreta il ruolo istituzionale. Quindi io continuerò in questa battaglia più convinta di prima. E noi i nostri migliori in bocca al lupo, tra l'altro parliamo anche di nomine ed entriamo proprio nel vivo anche di quelle che sono state le nuove nomine per quanto riguarda questo nuovo esecutivo, le ultime cariche del governo, fra queste la recente nomina di Pina Castiello a sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento. Ecco, questa nomina potrebbe oggi per noi essere una garanzia, rappresentare una garanzia per il nostro Sud? Sicuramente, a parte che ci inorgoglisce, ma soprattutto abbiamo avuto il segnale evidente di come l'unico leader del centrodestra e quindi solo Matteo Salvini ha dato visibilità a Napoli e provincia, nominando Pina Castiello che ci rappresenta alla grande. E aspettiamo naturalmente quale sarà poi l'esito del suo lavoro, intanto la nuova squadra di governo lavora su tanti temi, su più fronti, fra questo c'è anche il mondo sanità e sappiamo anche della scelta dei provvedimenti, scelte da un nuovo esecutivo, fra questi quelli di reinserire nei protosoccorsi, insomma, nelle strutture ospedaliere i medici Novac. Tante le polemiche suscitate, lei da questo punto di vista cosa ne pensa? È stato giusto il provvedimento idoneo per questo periodo storico? Guardi, io penso che è un provvedimento ministeriale che va rispettato e che fondamentalmente i colleghi che hanno deciso di non vaccinarsi non sono colleghi di serie B, per cui possono tranquillamente, ne hanno dimenticato come si fa il medico, quindi abbiamo una grande carenza di medici ed è giusto che loro vengano reintegrati e ritornino in corsia a lavorare. Tra l'altro a questo elemento si collega anche un altro aspetto che riguarda il mondo della sanità, per l'appunto la carenza di personale medico. Questa potrebbe essere quindi l'occasione per non soffrire, ecco, in questo periodo proprio della carenza di personale medico, perché comunque abbiamo bisogno della pandemia, in realtà non è andata via totalmente e c'è bisogno di personale medico. Sì, ma al di là della pandemia abbiamo un bisogno di medici. Sicuramente con il reintegro dei colleghi Novac respiriamo un po', però non è la soluzione, la carenza persiste, rimane e c'è bisogno di un atto forte da parte del Ministero su questa problematica dei colleghi medici che non scelgono più di lavorare in emergenza urgenza. E c'è un'altra questione e le chiedo se potrebbe questa esserne una motivazione, ovvero l'aggressione al personale del pronto soccorso. Questo ormai è un problema che riguarda la nostra regione, è vero, ma in realtà è un problema inerente a tutto il comparto del sistema sanitario. Carenza di personale medico, aggressione e pronto soccorso, comunque come si potrebbero risolvere questi problemi secondo lei oggi? Sicuramente, e ho visto che il Ministro ha già dato un'indicazione su questo, anche se è arrivato in ritardo, perché noi in Regione Campania come Lega avevamo già depositato una proposta di legge e quindi abbiamo già individuato quali potevano essere gli strumenti per poter aumentare l'appeal di queste specialità. Quindi, maggiore retribuzione, migliore retribuzione a chi lavora in pronto soccorso, perché inevitabilmente chi lavora in emergenza urgenza si fa carico di maggiori responsabilità. Come lei diceva, si espone anche a delle aggressioni e quindi maggiore sicurezza, dobbiamo garantire ai colleghi che lavorano in prima linea in pronto soccorso, vanno sicuramente rafforzati i presidi nei pronto soccorsi a garanzia dei colleghi, dei medici. E c'è anche altro però da fare per migliorare i percorsi in emergenza urgenza in Regione Campania. E questo è uno dei punti della mia proposta, che ora è al vaglio del Presidente De Luca, è quello di unificare funzionalmente il Dipartimento di Emergenza introspedaliero con quello territoriale. È un punto importante questo, come lei giustamente diceva, per fare in modo anche che ci sia una maggiore collaborazione, anche una maggiore fiducia tra persone medico e pazienti, perché probabilmente è anche il fatto che i pazienti si sentano un po' scoraggiati da non ricevere magari delle risposte o comunque di non essere seguiti, che porta poi gli stessi ad avere delle reazioni sbagliate. Quindi bisognerebbe anche lavorare da questo punto di vista, quindi su un fronte duplice. Sicuramente. Il familiare che reagisce e aggredisce il medico è perché... È un familiare esasperato. Esasperato. E quindi è un familiare che reagisce con l'unico interlocutore che ha in quel momento di tutto il sistema. Quindi va migliorato il sistema, ma soprattutto, come in tutti i paesi civili, va garantita l'urgenza. Riformare il sistema sanitario, ecco, al di là della regione Campania, che comunque presenta delle problematiche ataviche, oramai storiche, però in linea generale dovrebbe essere riformato secondo le sistema sanitario? Le chiedo se sì oppure no, ma se sì in che maniera? Da dove partire? Sì, deve essere riformato. La pandemia ci serve da insegnamento. Il territorio va rafforzato e quindi la medicina territoriale non solo deve essere potenziata, ma deve essere collegata con la medicina introspedaliera. Quindi, ecco, riapriremo per una parentesi anche con i medici di famiglia, no? Anche loro dovrebbero essere supportati in questa battaglia. E avviare una riforma sanitaria partendo anche da quel comparto? Partendo soprattutto da quel comparto. Senta, riformare il sistema sanitario significherebbe anche reintrodurre una nuova modalità di approccio allo studio della medicina e del mondo sanitario. Quindi l'eliminazione anche del numero chiuso per la facoltà di medicina potrebbe essere anche una soluzione per evitare il problema, anche pronto soccorso, perché ora parliamo del problema pronto soccorso, la presenza appunto di un numero più cospicuo dei giovani medici potrebbero probabilmente sollevare la problematica e alleviare le difficoltà. Sì, è una battaglia tutta a firma lega l'abolizione del numero chiuso a medicina. Sicuramente il dato è che abbiamo bisogno di medici. Li vorremmo italiani, vorremmo evitare quello che è successo nella regione Calabria e quindi anche perché il medico formato in Italia è una garanzia, viste le eccellenze delle nostre facoltà di medicina e delle nostre università. Quindi sicuramente è il primo passo quello di eliminare il numero chiuso a medicina. E questa è una battaglia che la Lega porterà a termine. Dopodiché va aumentato l'appeal di certe specialità. Esatto, ma da qui portare poi magari i giovani medici all'interno di pronto soccorso potrebbe essere una buona idea, anche se con dei limiti, perché poi mi chiedo perché un giovane medico dovrebbe entrare nell'immediato in un reparto di medicina d'urgenza anche? Guardi, l'urgenza è una scelta di vita. Quando la si fa per ripiego il risultato non è mai garantito. Quindi bisogna ritornare a far appassionare i giovani medici a questa branca, a questa specializzazione che a mio parere è la più bella e la più gratificante in assoluto. Senta, parlavamo appunto della nuova squadra di governo, tante le sfide che dovrà lo stesso portare avanti, mettere in atto. con la Meloni per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, Presidente del Consiglio, donna. Qual è il suo pensiero in merito? È anche oggi una grande sfida, quella che la Meloni dovrà portare avanti, ma riuscirà a cambiare secondo lei le sorti del nostro paese? È un momento storico, la prima volta una donna a guidare il governo, ma mi consentite di dire che è anche una donna di qualità. E quindi va bene il fatto che sia una donna, ma è importante ed è fondamentale che è una donna che ha le capacità, che ha dimostrato di avere le qualità per poter guidare questa nazione. E quindi io sono fiduciosa e sono convinta che già dai primi passi che questo nuovo governo sta muovendo, andiamo nella direzione giusta. Le preoccupa che non ci sia un ministero dedicato interamente al Sud, quindi all'interno dell'agenda politica, potrebbe inficiare le problematiche che riguardano il nostro Sud? Sicuramente mi preoccupa che sono pochi i rappresentanti del Sud. E quindi in questo ribadisco l'attenzione di Matteo Salvini su questo argomento. Però non è un ministero che può cambiare le sorti del Sud. Siamo noi, politici impegnati del Sud, che dobbiamo far sentire la nostra voce. Temiamo per i fondi del PNRR? No, non dobbiamo temere, non dobbiamo assolutamente temere. Va rivista qualche cosa, sono d'accordo con la questione che ha sollevato Giorgio Meloni. E quindi sicuramente vanno riviste alcune cose per il PNRR, ma il Sud sarà garantito. Senta, a proposito di Sud, naturalmente tanti temi che ancora una volta ci portano a vedere il divario tra il Nord e il Sud. Con il PNRR naturalmente tutto secondo lei dovrà essere rimodulato e quindi perdere probabilmente l'occasione di tutti quei progetti che in realtà erano in essere nel pieno periodo pandemico. E quindi poi col cambiamento anche dell'esecutivo e poi anche con il problema del caro energia e dell'evento bellico. C'è il rischio che tutto debba essere rimodulato e quindi alcuni progetti possono andare persi? No, io penso che il rischio non ci sia. Sicuramente vanno date delle priorità. E ora il momento del caro energia è una priorità assoluta in questo momento. Abbiamo visto ieri la Meloni impegnata a Bruxelles. Quindi il segnale è stato forte che il nostro governo è lì a trovare soluzioni per gli italiani. Su breve periodo perché poi devono essere soluzioni da prendere in questo istante per aiutare davvero la popolazione che in questo momento sta soffrendo per il caro energia, l'inflazione e tanto altro. Intanto in bocca al lupo, buon lavoro a lei. Grazie a Carmela Rescigno, consigliere regionale di La Lega, per essere stata qui con di quest'oggi a Mattina Live. In bocca al lupo. Pubblicità, restate con Mattina Live. Grazie a tutti.